L'ondata migratoria che si è riversata sulla Slovenia esercita nuova pressione su Austria e Germania. Berlino resta la destinazione principale per la maggior parte dei migranti in arrivo in Europa. In anticipo sulla tabella di marcia, l'esecutivo Merkel ha annunciato un inaspiramento delle regole per far fronte all'emergenza. Coloro che hanno ricevuto la notifica per il rimpatrio e del giorno della partenza vedranno ridotti quasi a zero i sussidi finora percepiti, ha spiegato il ministro dell'interno Thomas de Masier, fin quando non lasceranno la Germania gli garantiremo il minimo indispensabile. Accelerazione del processo di riconoscimento della procedura di asilo ed anticipo dei rimpatri, questo è il piano di Berlino. Nel paese intanto le strutture di accoglienza sono piene, medici lamentano mancanza di medicinali. Dobbiamo contare sulle donazioni dei medicinali e degli strumenti per lavorare, dipendiamo in pratica dalla carità per poter esercitare la nostra professione. Secondo le ultime stime recenti, la Germania dovrebbe ricevere nel 2015 circa 800.000 migranti. Berlino insiste sulla necessità di arrivare a una efficiente politica per l'immigrazione a livello comunitario e torna a chiedere sanzioni per quei paesi, specie dell'est Europa, che si rifiutano di mettere in pratica il sistema delle quote.